Ennesimo capitolo di una sfida di grande storia e fascino, quella tra le vespe di mister Colucci e i leoni di Giuseppe Raffaele. Il potenza in campionato non vince Almenti dal 1960, vuole a tutti i costi conquistare il primo bottino pieno in trasferta della stagione. Padroni di casa dal canto loro scendono in campo vogliosi di continuare sulla striscia positiva delle ultime giornate. Tre minuti dopo la mezz'ora i campani si fanno pericolosi con Santos che controlla bene ma non trova la coordinazione giusta in mezza sforbiciata per l'impezierire Gasparini. Nella ripresa la prima occasione di marca rosso-blu e capita sul sinistro di Steffè che al 57esimo sfiora l'incrocio dei pali sprecando un bel cross di Caturano. Alla 62esimo è ancora pericoloso il potenza prima con Di Grazia che dal limite con un destro potente spaventa Barosi e 60 secondi dopo di nuovo con Steffè sul quale si oppone efficacemente l'estremo difensore campano. La prima occasione per i padroni di casa arriva al 75esimo quando Bentivegna in maniera scoordinata si fa deviare in corner la palla del possibile vantaggio. Finisce dunque 0 a 0 una gara che ha visto un potenza sicuramente più propositivo ma che non è riuscito a concretizzare le tante occasioni create. Juve Stabia raccimola un punto importante e continua sulla scia di risultati utili che la vedono fermamente nelle parti alti della classifica.